La vicenda dell'anarchico cospito sta aprendo sensibili scenari etici. La sua decisione di fare lo sciopero della fame lo sta esponendo al rischio della vita e su eventuali trattamenti che mettono a rischio la sua vita e gli impediscono in un futuro di decidere su se stesso e quindi sulla possibilità di trattamenti vitali forzati, il Ministero della Giustizia aveva chiesto un parere al Comitato Nazionale di Bioetica. Ed oggi il parere è arrivato. La richiesta del parere era condizionata a capire se l'anarchico potrebbe o no essere curato senza la sua volontà. Ovvio che no, specifica il Comitato dal momento che essendo cospito in grado di intendere di volere può sottrarsi a qualsiasi trattamento anche se ciò può causargli la morte. Diverso è il caso in cui accadesse che cospito, eventualmente in coma, non sia più in grado di decidere per sé e a quel punto farebbero fedele dichiarazioni anticipate di trattamento regolate per legge. Secondo le dati, infatti, una persona che decida, in caso di malattia grave, di non essere più curato o addirittura lasciato morire, andrebbe assecondato. Ma nel caso cospito si paventa una terza via, l'anarchico sembrerebbe intenzionato a recedere le sue intenti solo in caso di revoca del 41 bis. E se ciò avvenisse, mentre non è in grado di intendere di volere, stando a quanto afferma una minoranza del Comitato, varrebbe la sua autodeterminazione, non più le dati, cosa invece non valida per la maggioranza del Comitato. Non si possono infatti utilizzare le dati come se fossero un grimaldello per forzare il 41 bis. Le date sono regolate per legge e quella legge va rispettata.